A me che aveva in un rato arriva tutte le situazioni di presupposto, posso non spostare l'estate meglio nella comunicazione, l'ultimo tempo che ho preso questo è una cammina, e se non si attende di anni passati, o non so, se qua cammina è andata a PPDG, io sono di San Nicolás per la Playa, o di Dakota per la Playa. Lo quale come chiede a te si dilantica, dosi punti, posso preoccupare. E se che ti ammarrà a me, da un'altra domanda che ho parlato anteriormente, arriva, se non si ricordo che 2%, e se non si contro che 2% di finanziamento, l'olanda mi sembrava che per noi, se non si complica tutto il requisito in Europa, e l'olanda da PONE, per essere qui. Mi chiede che, se non si lavorano bene a casa, noi non mi sembrava che per 2%, se non si lavorano bene a casa, e abbiamo finanziamenti pubblico solido, e abbiamo un governo che sa qui che è la casa, e abbiamo bisogno di finanziamenti pubblico solido, e abbiamo bisogno di situazione di pressuposti di un paese a Roma, e su debi, e su obbligazione finanziaria, e su entrata, e noi mesi, ora, l'olanda è un buon rating, tanto di Standard & Poor's, o Fetch, e di IMF anche, e ora, naturalmente, abbiamo messo come paese, per andare a buscare un mercato, con un interesse hobby ma si buono. Nel momento, come la biazza con l'olanda, come la dimostrazione, come la biazza è incapaz, come la biazza è totalmente incapaz, per attender la situazione non finanziaria. A qui non mi c'è un ruolo di prensa, donato il partito del AFP, e del sr. Wanda Vittier-Skin, leader di fraccione interino, di fraccione di Arbanzo e Valspartei, e mi pubblico è un di poco, non fu un'unico, con il proprio senso, durante il bucroting. Il Parlamento non ha visto la situazione finanziaria, è che è il 20 di februario ultimo. Quindi, qui è questa vista? Il governo si riduce il suo gasto, per lo meno 75 milioni di florini, per non si può arrivare a metterlo in finanziaria. Il governo, qui, dice, il settore anni, mi ha visto 75 milioni di florini per me. Presupposto, è che mi ha visto il presupposto con me, quindi, per me, è un presupposto balanzato. E questo è questa vista, è che il tempo non si tratta, è difficile non funzionare. Oggi non ti ha visto la situazione finanziaria. Quindi, ci sono 5 edifiche multifuncionali, che costano 5-6 milioni per anni per il presupposto. Per soprattutto, il progetto è qui, è che la vista per il presupposto. Però non è che il 1-1, con il mondo ha visto la totalità.